260 Non credevo di giungere a questa età. Roma, 16 maggio 1955. Carissimo fr. Raffaele e Giuseppe, ho ricevuto la tua cartolina illustrata. Ti ringrazio degli auguri per il mio 62esimo compleanno. Devo ringraziare il Signore, perché non credevo, quando ero giochi, di giungere a questa età. Mi compiaccio che stai bene e che i tuoi studi procedano bene. Spero che tu sia sempre contento. Sono anche lieto che i diversi dizionari che ti ho regalati ti siano utili. In questo momento Teresa telefona ad una sua amica. Specialmente Leonardo e Teresa riescono a stare in continua compagnia con i coetane e le coetane per mezzo del telefono che adoperano molte volte al giorno. Noto che sono spessissimo le telefonate che ricevono. Per gli studi Francesco va bene, per Leonardo e Teresa non si può dire altrettanto. Leonardo si è svogliato avendo trovato grandi difficoltà nella facoltà di ingegneria e ora vorrebbe fare due facoltà ingegneria e scienze politiche ed inoltre si vorrebbe prendere anche la patente di secondo grado per condurre automobili e vado a una scuola di guida. Leonardo ha troppi amici ed anche Teresa ha troppe distrazioni. D'altra parte io non posso riparare a questa situazione di cose perché la mia permanenza tra le mura domestiche è molto limitata. Poi ormai non sono più dei bambini e dovrebbero pensare da sé. In salute, salvo qualche piccolo malesse relativo alla digestione, pare che stiano bene. Francesco invece, grazie al Signore, nonostante la sua normalità organica cardiaca, non soffre sinora disturbi di sorta. Io sono un poco stanco per il lavoro, ogni tanto mi prendono delle improvvise amnesie ossia mi manca la memoria di qualche cosa particolare. Per esempio l'altro giorno arrivai nel corridoio dove c'è il mio ufficio e mi presi una dimenticanza, mi sedetti ad una sedia degli usceri. Questi mi vennero intorno e io dissi scusate, mi conducete nella stanza del mio ufficio? Allora mi presero per un braccio e mi condussero e subito cessò l'amnesia. Però non ti impressionare, non c'è nulla di grave. C'è stato un deputato al Parlamento, depocristiano, che ha fatto un'interrogazione contro l'ufficio, senza però accennare la mia persona, dicendo però diverse insolenze. Questa interrogazione sarà discussa alla Canemera e non so come la cosa andrà a finire. La ragione di tutto questo è che una pratica è perché una pratica non è andata secondo i suoi desideri. Siccome fra le altre cose questo deputato ha detto che l'ufficio non era decoroso, così stamattina mi hanno cambiato il mobilio e mi hanno messo mobili nuovi color noce scuro, una scrivania col vetro sopra, un armadio con spogliatoio e specchi interni e un divano e due poltrone in pelle. Stamattina sono stato da Roberto e l'ho trovato a letto nell'infermeria. Ha un po' di influenza. Si era messo a letto ieri mattina. Stamattina sta meglio, ma sempre a letto. Sono stato due o tre ore con lui, che non vedevo da molto tempo, essendo stato sempre molto occupato in ufficio col nuovo direttore generale che vuole rinnovare tutti i sistemi. Ora il direttore generale è assente per qualche giorno e c'è un po' più di calma. Dimenticavo dirti che il giorno 14, in occasione del mio compleanno, per la prima volta in vita mia il personale del mio ufficio mi ha fatto il regalo di fiori in un portafiori di cristallo, che sta ad adornare e rendere più decorosa la stanza secondo i desideri di quel deputato. Carissimo Giuseppe, fra Raffaele mio, beato te che puoi lavorare vicino a lui e puoi, quando vuoi, durante il giorno andarlo a trovare, il Signore. Il nostro ministero ha bei mobili, ma non ha una cappella in cui vi sia il Santissimo Sacramento custodito. allora occorre averlo nell'anima come Dio, ma non come uomo in anima e corpo. Ma ringraziamo in tutto il Signore e la Madonna Benedetta che sempre ci provvederà e ci consolerà. Ho ricevuto il biglietto di Padre Luca, cui rispondo separatamente e ringrazio tanto. Osegui e ringrazia per le cure che ti hanno anche da parte mia il reverendo Padre Priori e i molto reverenti insegnanti, i colleghi e confratelli tutti. A te la santa benedizione, tuo affezionatissimo papà. a te la santa benedizione, cosa che ti hai a te la santa benedizione, a te la santa benedizione, sei